Facial Time Sicuramente sto vedendo una bellissima storia d'amore e credo di continuare questa storia Qual è la cosa che vi lega di più tra te e Margo? Tutto, mi aspetto soprattutto Questo è importante Assolutamente Parliamo di voi, infine Eh, bravo, finalmente Tutti ideali Beh, per me sarebbe ideale una rock star, purtroppo Non ci sono, è un rock star dietro Tutto ciò Mi ha dato tutto Mi piace il mio art Per questo No, ma io dico nell'abbiglietta in generale Un look dell'uomo? Ma io sono jeans Jeans, la maglietta Giacca, giacca di penne Giacca classica, dipende E no, all star tutta la vita Cosa non sopporti in un uomo come vestito? Una calza particolare, una calatta? Beh, dipende Non sopporto tantissimo Beh, oddio, sai Dipende anche di che genere uomo è Credo Canze bianche Evitiamole E cos'è che va fuori? Cambiamento maschile, cosa va fuori? Non sopporti Vabbè, oddio, mi stai chiedendo troppo Jeans, non lo so La cravatta, sì o no? Sì, perché no? Mi piace Abbinato in modo casual, sì, mi piace Non con vestiti, mi piace abbinato in modo casual Sì, secondo te è giusto che la piantata regali qualche altro Un po' di fiato o un po' di relazziamento Un uomo oppure è meno viceversa sempre? No, perché no? Insomma, ormai non lo riescono a più Perché no? Io sinceramente l'ho fatto in passato Farò sicuramente in futuro Tantissima volta ho rilevato Un uomo che aveva un uomo Un uomo che vestito Che a me personalmente piaceva E mi piaceva vederlo così E mi piaceva vederlo così